Sfida di alta classifica e programma comunale di Secchiano dove si affronta la nuova ferita polisportiva Sala. All'andata la gara si concursi con il risultato di 0-0. Nuova Fete che arriva dal pareggio tenuto in casa del Mondaino, Sala da un periodo positivo, culminato con la vittoria del domenica prima contro l'ex capolista Verrucchio. Direzione arbitrale affidata alla cura di affidi della sezione di Ravenna. La piazza del match è targata a Nuova Fete, a Stefanelli di Testa fa da sponda per la corrente Sebastiani, girata del numero 11, Golinucci blocca senza problemi. A quattordicesimo episodio da Moviola, Muratori entra in area di rigore, in questo caso viene strattonato da Calandrini e atterrato sotto gli occhi del direttore di gara, il quale fa segno di proseguire. Il replay mostra più di un dubbio. La risposta del Sala viene direttamente da calcio piazzato, battuto da Pellegrini. Semprini si limita ad azzare la sfera sopra la traversa. Dalla bandierina, Pellegrini prende le misure perfette a traiettaria per la testa di Matteoni. Semprini risponde presente. La vis continua ad affondare sulla destra. Questa discesa di Cupi viene vanificata dall'offside segnalato dal direttore di gara. Alto traversone di Cupi. Stefanelli ha il tempo di abitarsi in area di rigore, ma non riesce ad incidere come vorrebbe. Ancora il nazionale sanmarinese protagonista, voglioso di mettersi in mostra, tiro dalla distanza bloccato da Gollinucci. Il nuovo affetto insiste, sul fine di tempo va alla conclusione con Muratori. Pallone alto. Stessa cosa, dicasi, per la punizione battuta dall'altra parte ad opera di quarta. Squadra riposa sullo 0-0 con i padroni di casa che recriminano per il rigore non concesso su Muratori. Primo piano per i palloni di cena comunale di Secchiano, ma la prima azione porta i copyright della polisportiva Sala. Orlandi appoggia per Vernocchi, gran tiro e Semprini si supera rispingendo il pallone alla propria sinistra. L'azione prosegue con un contropiede che porta Muratori al possibile servizio per i gol in direzione di Stefanelli. Si salva la retroguardia ospite. Forse al sopale in questa fase di gioco a cura del giallo-blu, Stefanelli apre per Cupi, ma il terzino è precipitoso al momento della finalizzazione. Il solo avviene fuori alla distanza, Pellegrini cerca la testa di Vernocchi, ma trova quella di Stefanelli che ripiega in corner. Ma la formazione di Bartolini inizia sempre più a prendere campo. L'incursione di quarta viene sventata in tuffo da Semprini. Un giro di lancette e il tiro cross del neoentrato Bartolini mette qualche brivido alla porta difesa da Semprini. Ma la difesa di casa la combina grossa quando Fiaschini di testa innesca Pellegrini, che viene atterrato in area di rigore da Babini. Il rigore pare esserci, il reprei dice qualcosa in più e dagli 11 metri Calandrini non sbaglia. Raccogliendo l'abbraccio dei protagonisti in campo e di tutta la panchina. Il nuovo affetto cerca l'affondo decisivo, ma per Muratori arriva solo all'esterno della rete. Mentre Baldurce al minuto 42 va a prendersi di forza a questo calcio di punizione. La mattonella, manco a dirlo, invita il piede caldo di William Muratori. E il numero 10 di casa disegna un arcoballino colorato che spunta proprio nel set alla destra di Golinucci. Laddove vengono tolte le cosiddette ragnatele. Il reprei ci mostra la dodicesima prudezza di stagione dell'ex Gabice Gradara. L'esultanza sarà protagonista. Muratori infatti si arrampica alla rete ed essendo stato già munito viene ritenuta eccessiva. Come dice la regola, l'esultanza e l'arrampicamento sulla rete di recinzione. Un caso analogo era successo un paio di settimane prima in Serie C. Anche in questo caso libero arbitrio. Di sicuro Muratori salterà la sfida con i sacrementi in programma domenica prossima. L'ultima emozione di marca ospite, Calandrini di testa chiama il miracolo Semplini. Sulla ribattuta Fiaschini viene anticipato dalla retroguardia locale. Termina qui una gara non particolarmente emozionante con le due squadre che rimangono appaiate in classifica. Una nota di merito anche per la neopromossa Sala che continua a stupire. Per il Nuova Feltria invece continua la rincorsa al sogno che qualcuno della dirigenza culla ormai da qualche stagione. Di sicuro la bandiera giallo-blu non sarà mai ammainata.